Assessore, alle sue spalle i mezzi al lavoro, siamo in via Veneto, come procedono i lavori? Sono iniziati i lavori di asfaltatura del tratto di via Alberti, oggi siamo in via Vittorio Veneto, sta procedendo con le lavorazioni dello strato di sottofondo, appunto avevamo messo in progettazione proprio un intervento molto specifico che andava appunto a intervenire sullo strato di sottofondo e sul tappetino di usura dell'asfalto. È un intervento importante perché comunque comprende due arterie molto trafficate anche dal trasporto pubblico, appunto quello di via Alberti, di via Vittorio Veneto fino a via Michelangelo e voglio anche ricordare che alla fine di questo intervento andremo a sistemare quelle che sono le aiole lungo appunto via Alberti e via Vittorio Veneto che da tempo ci è stato segnalato appunto che erano anche oggetto di degrade quindi abbiamo deciso di intervenire anche su queste aiole e su questi marciapiedi e daremo una risposta anche al quartiere dando più decoro oltre che una risposta alla viabilità.